Oggi è per noi una bella giornata, perché la Madonna ci dà un grande suggerimento. Dice che dobbiamo fare tutto quello che ci dice Gesù, ma ci dice anche, e fatelo come faccio io. Ci dice due cose fondamentali, come faccio io fate anche voi. E quello che vi dice Gesù, mettetolo in pratica, come io l'ho messo in pratica. E poi si aggiunge anche Padre Pio, non con una voce stonata, ma con tanta umiltà, dice, è la verità, è così, io così ho fatto. E l'ho fatto per voi, per tutti i miei figli spirituali, per tutti i miei devoti, l'ho fatto anch'io, come la Madonna mi ha detto e mi dice. Fratelli e sorelle, io vi esorto a questo, a questo gesto di umiltà, ma tanto importante per noi cristiani. Dovrebbe essere il nostro distintivo, ed è il nostro distintivo. Alla Chiesa nascente i pagani dicevano, ma guarda come si vogliono bene, ma guarda come vanno d'accordo, ma guarda come pregono insieme, mettono tutto in comune, c'è rispetto. Questo è il nostro stile, questa è la nostra vita. Allora la Madonna delle Grazie continua a donarci tanti beni. Sotto lo sguardo suo, Padre Pio continua ancora a volerci bene, uno per uno, ma dalla nostra parte diamo una risposta forte a questo grande amore. Imitiamo la Madonna, imitiamo Padre Pio. Allora